Sette enigmi matematici, 7 milioni di dollari in gioco, la conoscenza umana potrebbe cambiare per sempre, sarà una conquista per il bene comune o ci perderemo in un labirinto di potere e controllo? Io sono Antonio Di Staso, laureato ma soprattutto appassionato di matematica ed è per questo che oggi vedremo i 7 problemi del millennio, ovvero l'ipotesi di Riemann, la congettura di Poincaré, le equazioni di Navier-Stokes, la congettura di Hoge, P vs Np, la congettura di Birk e Swinerton-Dyer e la teoria di Young-Mills. Di cosa siamo fatti? Risolvere il problema relativo alla teoria di Young-Mills vuol dire rispondere a questa domanda. Gli antichi credevano che tutto il mondo fosse fatto di terra, aria, acqua e fuoco. Semplice no? Questi quattro elementi avevano una forma geometrica molto precisa. Secondo Platone i vertici appuntiti del tetraedro spiegano perché il fuoco fa male. L'acqua scorre, semplice, è fatta da icosaedri che come palle rotolano uno sull'altro. Oggi sappiamo tutti che non è così. In realtà è peggio di così. In che senso? Abbiamo ridotto i costituenti ultimi della materia a tre. Protone, neutrone ed elettrone. Con questi soli tre elementi riusciamo a spiegare tutta la tavola periodica. Poi abbiamo scoperto che esistono particelle più piccole. I quark. Ma come abbiamo fatto a passare dall'aria, terra, acqua e fuoco ai quark? Tutta inizio nel 1820. Hans Christian Ørsted osserva che se accanto ad un acqua magnetico si trova un filo in cui scorre della corrente elettrica, l'ago si sposta. Sì, succede sempre così, lì dice il suo assistente. Ci conviene ignorarlo. Ørsted, invece, non lo ignorò e riferì la cosa all'Accademia Reale Danese delle Scienze. Questo fa supporre che ci sia un collegamento tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici. L'anno successivo, André-Marie Ampère notò che quando una corrente percorre due fili paralleli, i fili si muovono. Che elettricità e magnetismo siano correlati. Dieci anni dopo, Faraday ed Henry scoprirono l'opposto. Se si sottopone un avvolgimento di filo ad un campo magnetico alternato, nel filo scorre corrente elettrica. E sembrava ormai certo. Per quanto sembrassero due fenomeni completamente diversi, l'elettricità e il magnetismo apparivano strettamente collegati. Fu William Thompson, famoso come Lord Kelvin, ad avere l'intuizione. E se l'elettricità e il magnetismo fossero in realtà la stessa cosa? Addirittura! Intorno al 1850, un matematico scozzese, James Clerk Maxwell, decise di studiare sul serio l'ipotesi di Thompson. 15 anni dopo, Maxwell unifica elettricità e magnetismo, nasce l'elettromagnetismo. Le equazioni di Maxwell sono una pietra miliare nel nostro processo di comprensione della natura. L'elettricità e il magnetismo sono fenomeni della stessa forza. La forza elettromagnetica. Grazie alle sue equazioni, Maxwell riuscì addirittura a calcolare la velocità del flusso elettromagnetico e scoprì che è di circa 300.000 km al secondo. Non vi è familiare questa velocità? La luce! Maxwell ipotizzò una cosa incredibile. Anche la luce è una radiazione elettromagnetica. Nel 2000, la rivista Time nominò la persona più importante del ventesimo secolo. Un tale che aveva iniziato lavorando come impiegato in un ufficio brevetti svizzero. Albert Einstein. Albert Einstein nel 1905 pubblica quattro articoli in cui dà una spiegazione fisica al moto browniano, formula la relatività ristretta, dimostra l'equivalenza fra massa ed energia e spiega quantisticamente l'effetto fotoelettrico. L'articolo sull'effetto fotoelettrico spiega un fenomeno molto particolare. Se si colpisce una lastra di metallo con dei raggi ultravioletti, la lastra si carica positivamente, cioè la lastra perde degli elettroni. La cosa strana però non è questa. Il fatto strano è che se aumentiamo l'intensità della luce l'energia degli elettroni estratti non cambia. Ma come? Ci si aspettava dopo i lavori di Maxwell che quanto più intensa la luce tanto più aumenterà l'energia degli elettroni estratti. E invece? Gli esperimenti dicevano esattamente il contrario. È il cambio di frequenza, cioè se cambiamo colore alla luce che fa aumentare l'energia degli elettroni estratti. Ma come mai? A questa domanda ha risposto Einstein vincendo il Nobel per la fisica. Einstein ha ribaltato la nostra visione della luce. Non dobbiamo pensarla come un'onda, come credeva Maxwell, ma dobbiamo pensare alla luce come fatta da tante particelle. Ogni particella di luce, il fotone, colpisce un elettrone facendolo uscire dall'alastra di metallo, come delle biglie. Grazie all'interpretazione di Einstein oggi possiamo usare i pannelli fotovoltaici. Dal 1905 la luce e tutta la radiazione elettromagnetica si scopre fatta di particelle. Nel 1913 addirittura si incominciò a supporre che non solo la materia e la luce fossero fatte di particelle, ma addirittura anche il moto. Mi spiego meglio. C'erano alcuni problemi legati al moto degli atomi. Fino a quell'anno, cioè fino a 1913, si credeva che l'atomo fosse un piccolo sistema solare in miniatura. Che cosa c'è di più semplice? Ma se l'atomo fosse un piccolo sistema solare in miniatura accadrebbe un piccolo problemino. Un elettrone per ruotare in maniera stabile attorno ad un protone deve essere trattenuto, altrimenti volerebbe via. L'elettrone è trattenuto dalla carica elettrica. Lui è negativo, il protone è positivo e quindi elettrone e protone si attraggono e l'elettrone non vorrà via. Bene, l'elettrone quindi orbita attorno al protone, come un satellite. Ruota, quindi cambia velocità e direzione, altrimenti andrebbe dritto. Se fate una curva in macchina dovete ruotare lo sterzo per cambiare direzione e la vostra velocità sta cambiando perché entra in gioco la forza centrifuga che vi spinge verso l'esterno della curva e l'attrito degli pneumatici vi tiene all'interno della curva. In tutto questo gioco di forze c'è un'emissione di energia. Infatti se fate molte curve ad alta velocità i vostri pneumatici si riscalderanno e si consumeranno. Quindi l'elettrone per mantenersi in orbita attorno al protone emette energia. Infatti i nostri cellulari riescono a trasmettere le telefonate grazie a questa energia liberata dagli elettroni. Il problema è che questa energia non può essere infinita. Nei cellulari noi abbiamo le batterie, gli pneumatici dell'auto si consumano e nell'atomo? Eh, nell'atomo l'elettrone finirebbe per precipitare verso il centro del nucleo. Dopo centomila giri l'elettrone dovrebbe schiantarsi sul protone e l'atomo collassare dopo soli 0,02 nanosecondi. Perché tutti gli atomi dell'universo non collassano in un miliardesimo del tempo che ho impiegato a pronunciare questa frase? Perché nell'universo ci sono in circolazione atomi da 14 miliardi di anni? Fu Niels Bohr a proporre una soluzione. E se le orbite dell'elettrone in realtà non sono orbite? Forse il moto all'interno di un atomo è fatto a salti. In questo modo solo alcune altezze orbitali sono consentite, cioè solo alcuni livelli di energia. E questa proposta di Bohr funziona. Con questa ipotesi l'atomo non collassa più. E non solo. Finalmente si riescono a calcolare le frequenze esatte dell'atomo di idrogeno. Anche Bohr così si meritò il Nobel per la fisica. Purtroppo per atomi più complessi di quelli dell'idrogeno il modello di Bohr non funziona più. Ci pensò Louis de Broglie a trovare un modello più funzionale. Dimostrò che ogni particella, incluso l'elettrone, possiede delle proprietà tipiche delle onde. Eh, ma come? Finora si sono tutti sforzati di dimostrare che in realtà le onde e persino le orbite degli elettroni negli atomi sono fatte di particelle? E ora de Broglie dice che in realtà sono le particelle ad essere fatte di onde. Eppure il modello di de Broglie riesce a spiegare fenomeni che il modello di Bohr non riesce a spiegare. Vi sembrerà assurdo, ma pare proprio che la natura funzioni così. Nel 1905 Albert Einstein, oltre a spiegare l'effetto fotoelettrico, aveva anche formulato la teoria della relatività ristretta. L'articolo sulla relatività ristretta spiega una proprietà molto speciale della radiazione elettromagnetica. Quale che sia il nostro sistema di riferimento? Quando misuriamo la velocità della radiazione elettromagnetica, la velocità della luce, cioè otteniamo sempre lo stesso risultato. La velocità della luce è una costante insuperabile e ciò porta a strane conseguenze quando si raggiungono velocità prossime a quelle della luce, come il rallentare del tempo e l'accorciarsi delle lunghezze. Dopo, grazie ai lavori di Sinjiro Tomonaga, Julian Schwinger, Richard Feynman e Freeman Dyson, fu possibile coniugare la relatività ristretta con l'interpretazione quantistica dei fenomeni elettromagnetici. Nasce l'elettrodinamica quantistica, la teoria scientifica più precisa mai sviluppata dall'umanità fino a quel momento. Il passaggio fondamentale successivo fu l'intera formulazione di un analogo quantistico delle equazioni di Maxwell. Fu fatta da Young e Mills. Nel 1967 Grasho, Salam e Weinberg sviluppano la teoria elettrodebole, risolvendo alcuni problemi nati dalla teoria di Young e Mills. La teoria elettrodebole dimostra anche che quando l'energia in gioco è molto elevata, ad esempio nei primi istanti dopo il Big Bang, la forza elettromagnetica e l'interazione nucleare debole erano fuse in una sola. L'interazione nucleare debole è la forza responsabile del decadimento radioattivo. Dieci anni dopo, sempre Grasho, questa volta con Georgi, sviluppa la cromodinamica quantistica. Anche l'interazione nucleare forte viene inglobata. L'interazione nucleare forte è la forza più potente della natura, il suo valore è circa 100 volte quello della forza elettromagnetica ed è 105 volte maggiore della forza debole e l'interazione nucleare forte è 1039 volte più forte della gravità. Grazie alla forza nucleare forte esiste la materia e la forza nucleare forte che tiene unito il nucleo degli atomi, nonostante i protoni si respingono. La cromodinamica quantistica prevede anche l'esistenza di esotiche particelle, i quark. Ora diventano i quark i costituenti ultimi della materia. I protoni e i neutroni sono fatti di quark. Grazie alla cromodinamica quantistica tutte le forze della natura sono unificate in unica elegante e potente teoria. Eh, magari. E la gravità? Eh, la gravità è molto lontana dall'essere inglobata insieme alle altre forze. Allo stato attuale sembra che da un lato ci siano le forze quantistiche, elettromagnetismo e interazioni nucleari uniti nella cromodinamica quantistica e dal lato opposto solitaria è cociuta la gravità, spiegata dalla relatività generale di Einstein. Eppure una soluzione generale alle equazioni di Young e Mills ci darebbe proprio questo, l'unificazione di tutte le forze, la teoria del tubo. Ma finora nessuno è riuscito a scrivere una formula che dia una soluzione generale alle equazioni di Young-Mills. La cromodinamica quantistica è la teoria scientifica più accurata mai concepita dall'uomo. Molte delle previsioni di questa teoria sono state confermate da esperimenti che hanno raggiunto livelli di accuratezza mai raggiunti prima. Quanto ironica la natura! La teoria scientifica più accurata del mondo è costruita su equazioni che nessuno riesce a risolvere. Il problema del millennio pone proprio questa sfida, trovare una soluzione alle equazioni di Young-Mills. Così la nostra conoscenza dell'universo cambierà per sempre. Invece molto più accessibile è questa domanda. Cos'è un numero primo? Un numero primo è un numero indivisibile, o meglio è un numero divisibile solo per se stesso e per uno, come il numero 13 ad esempio. I numeri primi sono straordinari! Prendiamo i primi cento numeri primi, e se volessi sapere il successivo? Qual è il cento unesimo numero primo? Esiste una formula per calcolarlo? La risposta è boh! Almeno finora nessuno è riuscito a trovarla. Ci ha provato Eratostene, più di 2200 anni fa, con il suo incredibile Crivello, uno strumento che serve per fabbricare i numeri primi, per setacciare e trovarli in mezzo a tutti gli altri numeri. Dopo Eratostene non ci sono stati significativi progressi nel tentare di decifrare i numeri primi, fino a quando non fa la sua comparsa Karl Friedrich Gauss. Gauss affronta il problema da un altro punto di vista. Ma perché sprecare energie per cercare una formula per calcolare i numeri primi? Non potremmo semplicemente contarli? Eh, in effetti, Gauss riesce a stimare quanti numeri primi ci sono fra uno ed un numero grande a piacere. Ma come ha fatto? Tutto nasce da un regalo. A 14 anni, Gauss riceve in regalo un libro di matematica. In fondo a questo libro c'erano delle tavole, come per molti libri di matematica ancora oggi. In fondo c'erano la tavola dei logaritmi e la tavola dei numeri primi, i logaritmi a sinistra e i numeri primi a destra. Logaritmi e numeri primi? Vuoi vedere che il segreto dei numeri primi sono proprio i logaritmi? Gauss scopre così che i numeri primi compresi fra uno ed n sono all'incirca n diviso il logaritmo di n. Ecco trovata la stima. Voglio sapere quanti numeri primi ci sono fra uno e mille? Basta dividere mille per il logaritmo di mille. Ma è grandioso! Fermi là. Purtroppo questa stima di Gauss al crescere di n perde la sua precisione. Fino a mille non ci sono problemi, fino a diecimila va bene, ma se vogliamo sapere quanti numeri primi ci sono da uno a centomila, questa stima perde di efficacia. Peccato. Ma dopo Gauss arriva Bernard Riemann. Riemann va oltre i logaritmi di Gauss. Riemann scopre la chiave per accedere al tesoro dei numeri primi, i numeri immaginari. Riemann stava lavorando, per fatti suoi, ad una funzione, la funzione z. E mentre manipola questa funzione si accorge che, se nella funzione si mettono i numeri immaginari, i problemi che Gauss aveva con i logaritmi si risolvono. La funzione z, grazie ad il legame già scoperto da Ulero, è strettamente connessa alla distribuzione dei numeri primi. Riemann scopre che se nella funzione z mettiamo i numeri immaginari, allora è fatta! Ci siamo! I numeri primi possono essere finalmente decifrati! Il piccolo problema è che la funzione z estesa ai numeri immaginari produce un grafico in quattro dimensioni. Eh, bella roba! Come facciamo ad esplorare una funzione in quattro dimensioni? Riemann, in questo misterioso paesaggio quadridimensionale, nota che alcuni degli zeri della funzione che si protendono a ovest sono facili da individuare, ma non danno alcun contributo interessante. E gli altri zeri? Gli altri zeri della funzione z non sembrano sparpagliati qua e là a caso, sembrano disporsi eccezionalmente su di una linea retta che attraversa il paesaggio da nord a sud. È come se ogni punto situato a livello del mare abbia la stessa coordinata est-ovest uguale a un mezzo. A questo punto rimane a ferma. Tutti gli infiniti zeri significativi di questo paesaggio sono allineati lungo questa retta, la retta che va da nord a sud e che passa per un mezzo. Ecco, è questa l'ipotesi di Riemann, l'unico problema rimasto risolto nell'elenco dei 23 problemi di Hilbert del 1900 e primo problema della lista dei sette problemi del millennio del 2000, ancora non risolto oggi. E dall'affermazione di Riemann parte un'incredibile corsa, le più grandi menti del pianeta hanno provato a dimostrarla, uscendone sconfitte. Hermie, Adamar, De La Valle Poisson, Hilbert, Landau, Bohr, Herdi, Littlewood, Ramanujan, Siegel, Selberg, Erdos, Turing. E poi arriva Gödel, che dimostra che se le regole di partenza, gli assiomi, sono fra loro coerenti, allora ci sarà sempre qualcosa di indimostrabile. Che sia questo il caso? L'ipotesi di Riemann è indimostrabile. Chi lo sa? Tutti ci provano e nessuno ci riesce. Fino a quando arriva Hug Montgomery. Montgomery non cerca più di capire se tutti gli zeri non banali della funzione di Riemann si trovano effettivamente sulla retta critica. Cerca piuttosto di capire come sono distribuiti. Questi zeri sono disposti a caso o sono ordinati secondo una regola? Un pomeriggio a Princeton, all'ora del tè, per caso, Montgomery si ritrova a chiacchierare con Freeman Dyson. Dyson è stato un fisico straordinario, allievo del grande Richard Feynman. Montgomery, quel pomeriggio, mostra a Dyson il grafico della distribuzione degli intervalli degli zeri della funzione Z. Dyson guarda il grafico. Resta senza parole. Che c'è? Gli chiede Montgomery. Quella distribuzione di zeri è uguale ai livelli energetici del nucleo dell'atomo di Erbio, il sessantottesimo elemento della tavola periodica. Ma è incredibile! Le configurazioni della distribuzione degli zeri della funzione Z di Riemann sono identiche alle distribuzioni che i fisici quantistici stavano scoprendo nei livelli energetici dei nuclei di atomi pesanti. Che si trova all'interno dell'atomo, la risposta al dilemma dei numeri primi. Ma non è tutto. Le vibrazioni energetiche di un atomo assomigliano a quelle di un tamburo. Se cospargiamo una lastra metallica con un sottile strato di sabbia e la mettiamo in vibrazione, a seconda della frequenza a cui la lastra vibra, compariranno delle splendide figure geometrie. La matematica che descrive queste frequenze è la stessa che serve per calcolare i caratteristici livelli energetici a cui vibrano gli elettroni di un atomo. Le vibrazioni di una lastra che crea meravigliose forme geometriche sono descritte dalla stessa matematica che descrive i livelli energetici di un atomo. Che descrive la distribuzione degli zeri di Riemann. Sarà un fisico quantistico a dimostrare l'ipotesi di Riemann? Invece è stato proprio un matematico a risolvere la congettura di Poincaré. Unico problema dei sette ad essere stato risolto. In realtà non proprio. Ora vi spiego. A tre matematici viene mostrato un cubo. A ciascuno viene chiesto. Che cosa vedi? Il primo esperto di geometria risponde un cubo. Il secondo un esperto di grafia afferma vedo otto vertici connessi da dodici spigoli. Il terzo uno studioso di topologia invece dice vedo una sfera. Ecco la topologia. Nello strambo mondo della topologia una cannuccia è uguale ad una ciambella ed un cubo è uguale ad una sfera. Studiando le inusuali uguaglianze del mondo della topologia, Rie Poincaré ha affermato se prendo qualsiasi forma senza buchi, che non sia eccessivamente irregolare, allora posso ottenere una sfera. Poincaré ha anche detto che questo si può fare in tutte le dimensioni. In due, in tre, ma anche in quattro, cinque, sei, tutte le dimensioni che vogliamo. Duecento anni prima Eulero aveva scoperto che dato qualsiasi solido, se contiamo il numero dei vertici, aggiungiamo il numero delle facce e togliamo il numero degli spigoli e otteniamo sempre due. Provare per credere. Prendiamo un cubo. Il cubo ha sei facce, otto vertici e dodici spigoli e sei più otto fa quattordici. Meno dodici che sono gli spigoli fa due. E questo vale per le piramidi, gli icosaedri, i dodecaedri. Otteniamo sempre due. Se non ci sono buchi, il risultato sarà sempre due. Questa formula ci suggerisce che tutti i corpi sufficientemente regolari e senza buchi sono trasformabili l'uno nell'altro. Quindi posso trasformarli in una sfera. Problema risolto? Eh, no. Poincaré è stesa questa formula utilizzando tutta una serie di numeri per descrivere le figure. Voleva rendere più potente e generale la formula di Eulero. Poincaré inventò così l'omologia. Però nemmeno questo nuovo potente strumento è sufficiente. Fino alla fine del 1960 la situazione era davvero desolante. Tutti i tentativi fatti per dimostrare la congettura di Poincaré erano andati a vuoto. Una desolazione totale. E poi arriva Stephen Smale. Pensate che quando Smale era studente universitario non era affatto uno studente modello. Anzi, durante l'ultimo anno finì in libertà vigilata. Dopo quell'episodio iniziò a prendere un po' più sul serio lo studio. Cambiò il suo piano di studi. Da fisica passò a matematica. Ma presto ritornò a prendere brutti voti. Riuscì però, nonostante tutto, ad essere ammesso al dottorato. Ma nulla. Anche qui i risultati mediocre. Smale si impegnava così poco che fu addirittura richiamato dal direttore del dipartimento. Quel richiamo scosse Smale, che abbandonò i suoi mille interessi e si impegnò nello studio. Smale riuscì a completare il dottorato. E dopo è persino riuscito a rivoluzionare molti campi della matematica. E lo ha fatto, lavorando in posti improbabili. Dopo il dottorato Smale passò un anno e mezzo a Princeton. E gli ultimi sei mesi a Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro Smale seguiva un programma serratissimo. Mattina in spiaggia e sera a ballare la samba nei locali. Nel pomeriggio discuteva di topologia ed equazioni differenziali coi colleghi. E fu proprio prendendo il sole a Cobacabana che Smale riuscì finalmente a scardinare la congettura di Poincaré, dimostrandola per tutte le dimensioni superiori a cinque. Per questo suo grande risultato nel 1966 Smale ha vinto la medaglia Fields, il più alto riconoscimento per un matematico vivente. Niente male per uno che a stento è riuscito a completare un dottorato. Ci siamo. Ora resta solo da dimostrare che la congettura di Poincaré si averà anche per tre e per quattro dimensioni. Per dimostrare la congettura di Poincaré in quattro dimensioni ci sono voluti altri vent'anni. Dagli anni 60 siamo giunti ai fantastici anni 80. Negli anni 80 Michael Friedman dimostra la congettura di Poincaré in quattro dimensioni. Per questo risultato anche lui ha ottenuto la medaglia Fields. Non resta che l'ultimo scoglio, dimostrare la congettura di Poincaré in tre dimensioni. A questo punto entra in scena Richard Hamilton, un amante delle corse dei cavalli e del windsurf. Richard Hamilton ha compiuto una rivoluzione. Ha introdotto il flusso di Ricci. Il flusso di Ricci stira, spiega, deforma un corpo. È come se ci fossero tanti sensori disseminati sul corpo. Gonfia di qua, contrai di là e il corpo diventerà molto regolare. Proprio una bella sfera. Fantastico! Allora possiamo usare il flusso di Ricci per dimostrare la congettura di Poincaré in tre dimensioni. Questa era esattamente l'intenzione di Hamilton. C'è un problema però. In questo gonfiare e restringere può succedere che si possono formare strozzature o addirittura delle protusioni a forma di sigaro. Oppure l'oggetto può spaccarsi in pezzi. Hamilton spese dieci anni nel tentativo di eliminare questi problemi. Alla fine riuscì a trovare una soluzione. La chirurgia! Incominciamo con l'applicare il flusso di Ricci all'oggetto fino a poco prima che qualcosa di anomalo inizi a formarsi. Poi stop! Fermiamo tutto. Tagliamo i pezzi indesiderati e facciamo ripartire il flusso. Terremo da parte i pezzi tagliati che andranno analizzati a parte. Questa strategia chirurgica è stata descritta da Hamilton in un articolo di ben 150 pagine. Fatto! Ci siamo? Niente. Non ancora. C'erano alcune deformazioni che non riuscivano ad essere controllate. Ed è qui che entra in scena Gregory Perelman. Tra il 2002 e il 2003 Perelman posta tre articoli su Archive. Archive è un sito dove chiunque può postare un articolo. È sufficiente solo il benestare di una persona che ha già postato qualcosa. Perelman mette i suoi lavori sul web proprio come fossero post di Facebook. Non li pubblica su di una rivista prestigiosa. La notizia dell'impresa di Perelman, nonostante la poca pubblicità, si diffuse rapidamente. Perelman, dopo cento anni, aveva risolto la congettura di Poincaré, aggiungendo l'ultimo tassello, le tre dimensioni. Per questo risultato Perelman fu insignito della medaglia Fields nel 2006 e nel 2010 il Clay Mathematics Institute gli attribuì il premio di un milione di dollari. Nel 2005 Perelman si è ritirato dall'istituto dove lavorava e dopo aver rifiutato sia la medaglia Fields che il premio da un milione di dollari, si è anche ritirato dalla ricerca matematica. Per Perelman era Hamilton il vero risolutore della congettura. Lui aveva solo corretto dei dettagli. Siete mai stati a Parigi? Siete mai saliti sulla Tour Eiffel? Scommetto che anche se siete stati a Parigi e siete pure saliti sulla Tour Eiffel non avete notato che sotto la balconata del primo piano sono incisi dei nomi. Gustave Eiffel decise di far incidere sotto la balconata del primo piano della Tour Eiffel i nomi di 72 cittadini francesi. Nella facciata di fronte al trocadero c'è il nome di Navier. Claude-Louis Navier è nato alla fine del Settecento. Divenne un abile ingegnere specializzato nella costruzione di strade e ponti. Però oggi ricordiamo Navier non come costruttore di ponti ma come un matematico. Come mai? Dobbiamo fare un passo indietro. Tutto a inizio con Newton e Leibniz. Questi due tizi sono stati gli inventori del calcolo infinitesimale. Loro due hanno inventato gli esami di analisi matematica. Assassini. Ma chi erano questi due? Sono andato sulle loro pagine di Wikipedia a vedere cosa c'è scritto. La pagina dedicata a Newton inizia così. Sir Isaac Newton è stato un matematico, fisico, astronomo, filosofo naturale, teologo storico e alchimista inglese. Considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, ha anche ricoperto i ruoli di presidente della Royal Society, direttore della zecca inglese e membro del Parlamento. Cos'altro? Quella di Leibniz è peggio. Gottfried Willem von Leibniz. Scritto alternativamente in tedesco ed in francese, Leibniz è conosciuto anche come Leibnizius in latino e Leibnizio in italiano. È stato un matematico, filosofo, logico, teologo, linguista, glottoteta, diplomatico, giurista, storico e magistrato tedesco. Tra i massimi esponenti del pensiero occidentale, nonché una delle poche figure di genio universale. La sua applicazione intellettuale ha pressoché tutte le discipline del sapere, ne rende l'opera vastissima e studiata ancora oggi trasversalmente. Dopo ho chiuso e sono andato a piangere. Se sono esistiti due uomini così, noi possiamo tranquillamente estinguerci. In realtà, le biografie col passare del tempo si sono leggermente gonfiate. Tre mesi prima della nascita di Newton, morì il padre e la madre, tre anni dopo, si risposò con un tizio molto più vecchio di lei. Newton odiava il suo nuovo papà. Una volta minacciò addirittura di incendiare la casa. Quando Newton compì dieci anni, il suo patrigno morì e gli lasciò una cospicua eredità, quella quale poteva permettersi di frequentare la King's School. Eh, mica male, meno male che non appiccò il fuoco. A 19 anni, Newton compila una lista dei suoi più grandi peccati. Ne scrive 48. In uno di questi scrive, mi pento di aver fatto le torte di domenica sera. Oppure, mi pento di aver preso a pugni mia sorella. Mi pento di aver voluto incendiare casa. Alla fine del 1658, la madre lo costrinse ad abbandonare gli studi e lo richiamò a casa per accudire i campi. Ma si rivelò un pessimo agricoltore. Ma vi immaginate? Newton contadino. Poco dopo scoppiò la peste. Il college fu chiuso. Newton approfittò di questa interruzione per proseguire gli studi per conto proprio. Durante quell'anno di isolamento, a soli 24 anni, Newton concepì le idee sul calcolo infinitesimale, quando si dice gli effetti del lockdown. Newton non pubblicò subito le sue scoperte. Credeva di essere deriso. Vabbè, ci può stare. Non sempre le idee innovative vengono accolte bene. Il fatto, però, è che Newton non si vergognava affatto di altri suoi lavori. Ad esempio, credendo che il colore fosse provocato dalla pressione sull'occhio, si infilò un ago da calza nell'orbita oculare fino al retro del suo bulbo oculare. E ha notato tutto. Vedo cerchi bianchi, ora scuri. Ah, ecco, ora colorati. Nel 1979 sono stati esaminati alcuni campioni dei suoi capelli. Nei capelli di Newton si è trovata una concentrazione di mercurio, oro e antimonio 40 volte superiore al normale. 40 volte! E per forza Newton delirava. Si beveva il mercurio. Praticamente, Newton era diventato un termometro. Uno dei suoi più profondi interessi era l'alchimia. Newton era ossessionato dal trovare la pietra filosofale. Newton come Voldemort. Newton cercava anche l'elisir di lunga vita. Voleva diventare ricco e immortale. Altro che calcolo infinitesimale. Quello l'ha fatto nel tempo libero. Un'altra delle ossessioni di Newton era la Bibbia. Fece calcoli su calcoli per stimare la forma e le dimensioni del Tempio di Salomone e predisse l'anno della fine del mondo. Nel 2060, secondo Newton, moriremo tutti. E Leibniz, l'altro inventore del calcolo infinitesimale? Leibniz non fu da meno. Leibniz trascorse un anno con la società segreta dei Rosa Croce nel tentativo di scoprire la pietra filosofale. Pure lui come Voldemort. Leibniz fu nominato segretario dopo aver composto una lettera senza senso contenente oscuri termini alchemici. Sembra di leggere il pendolo di Foucault di Umberto Eco. Leibniz è considerato il padre della filosofia tedesca. Peccato che quasi tutte le sue opere le ha scritte in francese. Anche se Leibniz pubblicò nove anni prima i risultati sul calcolo differenziale, pare abbia copiato da Newton. Sì, sembra che undici anni prima Leibniz era stato a Londra in visita alla Royal Society, dove prese visione di alcuni dei lavori di Newton e addirittura lo stesso Newton gli aveva fornito alcuni dettagli. Comunque oggi, grazie a questi due signori, abbiamo il calcolo differenziale. Dopo Newton e Leibniz, Daniel Bernoulli prese l'appena nato calcolo infinitesimale e tentò di applicarlo al mondo reale. Bernoulli riuscì ad impiegarlo per analizzare il muoto dei fluidi. Dopo, usando i lavori di Bernoulli, Eulero formulò una serie di equazioni che descrivono il muoto di un ipotetico fluido. Nel 1822 quello che fece Navier fu aggiungere una correzione all'equazione di Eulero per poter coprire il caso di un fluido con un certo grado di viscosità. Qualche anno dopo, George Gabriel Stokes riscoprì le equazioni formulate da Navier e spinse la teoria molto più avanti. Grazie ai lavori di Navier e Stokes, sul finire del 1800 sembrava che i matematici fossero ad un passo dall'elaborare una teoria completa della fluidodinamica. Comprendere appieno il modo in cui i fluidi scorrono sulle superfici potrebbe aprire la strada a miglioramenti nella progettazione di navi e aeroplani. Potremmo capire meglio il funzionamento del cuore, potremmo sviluppare innovativi sistemi in grado di salvare vite umane. Ma c'è un problema, un piccolissimo problema. Nessuno fino ad oggi è riuscito a trovare una formula che risolva queste equazioni di Navier e Restokes. In realtà ancora nessuno è riuscito nemmeno a dimostrare se una soluzione effettivamente esiste. Tutto quello che abbiamo imparato è solo che la fluidodinamica è tremendamente complicata. Ma andiamo avanti. Svelare la congettura di oggi sarebbe come mappare il DNA delle forme geometriche, rivelando il codice genetico fondamentale che modella l'universo dalla scala microscopica a quella cosmica. La congettura di oggi è il più difficile tra i sette problemi del millennio. Tutto a inizio con Cartesio. Cartesio, nelle sue incredibili riflessioni, fra le altre cose, è riuscito a ricondurre la geometria all'algebra. Le curve, le forme geometriche diventano equazioni. È un risultato incredibile. Forse quando a scuola si studia l'equazione della retta, l'equazione della parabola, dell'ellisse, dell'iperbole. Ad alcuni può piacere, ma ad altri può far dire che palle. In realtà, fino a Cartesio, gli esseri umani si erano rosi il cervello per cercare di risolvere problemi di geometria. È la geometria quella con cui si ha a che fare maggiormente? Dovete segnare i limiti del campo da arare? Dovete costruire una casa, una zigurat o una piramide? Dovete costruire un tempio, una stalla, un granaio? Dovete usare la geometria e risolvere un problema di geometria con la riga e col compasso. Mica è uno scherzo da ragazzi. Adesso sì, invece, grazie a Cartesio, possiamo usare, anziché la riga del compasso, le equazioni. Ora le nostre case, i ponti, i grattacieli, sono costruiti a partire da equazioni. Grazie a Cartesio, i problemi geometrici diventano problemi algebrici. Risolvere un problema geometrico ora voleva dire risolvere equazioni. A partire dall'Ottocento, i matematici si sono scatenati. Cartesio era partito da figure note, il cerchio, la retta, l'ellisse, la parabola, e le aveva trasformate in equazioni. E perché limitarsi a queste misere figure? I matematici allora iniziano a prendere una qualsiasi equazione e a partire dall'equazione, qualunque essa sia, definiscono gli oggetti geometrici. In questo modo nascono delle forme geometriche mai concepite prima e mai concepite nemmeno dalla natura. Nascono le varietà algebriche. Adesso abbiamo davvero preso il volo. I nostri sensi, la nostra percezione, non conta più. Le varietà algebriche sono oggetti geometrici inimmaginabili, oggetti che possono avere addirittura più di tre dimensioni. Su questi straordinari oggetti geometrici, le varietà, si possono fare i calcoli così come li facevamo nel piano. Possiamo calcolare la velocità di un punto, ad esempio. Possiamo calcolare le equazioni. La congettura di oggi ha proprio a che fare col calcolo di queste equazioni su di una varietà algebrica. La congettura afferma, fermi, ma chi è questo oggi? È bello capire che dietro ad ogni scoperta c'è sempre una vita incredibile da raccontare. William Vallance Douglas Hodge nacque ad Edimburgo nel 1903. Hodge aveva 11 anni quando scoppiò la grande guerra. La guerra mise a dura prova l'attività di famiglia, la ditta Douglas. La famiglia decise che Hodge avrebbe lasciato la scuola e si sarebbe unito all'azienda. Così, a Pasqua del 1918, Hodge lascia la scuola e si mette a fare l'impiegato nella ditta di famiglia. Questo lavoro di routine da impiegato non era proprio per lui. Dopo solo sei mesi, la famiglia capisce che sarebbe stato meglio permettergli di continuare gli studi. Hodge doveva continuare gli studi. Ma cosa? Alla fine fu deciso. Hodge doveva entrare nella pubblica amministrazione. Quindi gli serviva una laurea. Ma che laurea scegliere? La sua materia scolastica migliore era la matematica. Quindi, deciso, doveva laurearsi in matematica. Hodge si iscrive all'Università di Edimburgo nell'ottobre del 1920. Dopo la laurea, Hodge era ancora convinto di dover entrare nella pubblica amministrazione. Ma si rese conto che forse entrare nella pubblica amministrazione con solo competenze in matematica avrebbe limitato la sua carriera. Solo a questo punto che Hodge iniziò a prendere in considerazione una carriera accademica. E meno male! Abbiamo rischiato di avere un mediocre funzionario pubblico ed una matematica molto più povera. Hodge morì a Cambridge il 7 luglio del 1975, all'età di 72 anni, dopo aver formulato un'ipotesi. Quando calcoliamo delle particolari equazioni su di una varietà algebrica di un certo tipo, otteniamo un particolare tipo di oggetto geometrico. Certo, un oggetto geometrico totalmente impossibile da visualizzare. Ma tale oggetto, proprio come aveva fatto Cartesio, può essere analizzato e studiato usando l'algebra. Una dimostrazione dell'ipotesi di Hodge sancirebbe un collegamento fondamentale tra la geometria algebrica, l'analisi e la topologia. Dopo tutto questo, adesso ascoltatemi bene. P versus NP. E' questo il problema che in teoria potrà essere risolto anche da un matematico amatoriale. Questo è l'unico problema a non essere sepolto sotto una valanga di concetti matematici astrusi. Forse per risolvere questo problema sarà sufficiente avere un'idea brillante. Chiunque di voi possiede e usa tutti i giorni un pc. Per che scopo lo utilizzate? Leggere le mail? Navigare su internet? Non è per questo che i computer sono stati inventati. I computer sono stati inventati per fare i calcoli. Tutto inizia quando nel 1900 Hilbert enuncia un elenco di 23 problemi. Ogni tanto mi fermo a riflettere su questo elenco. Hilbert credeva che questi sarebbero stati gli ultimi 23 problemi risolti i quali era fatta. La matematica poteva ritenersi conclusa. E invece da ognuno di essi è nato un intero mondo. Nuove discipline, nuove invenzioni, nuove occupazioni. In quegli anni si era ancora convinti che verità voleva per forza dire dimostrabilità. Se un'affermazione è vera, è vera perché è dimostrabile. E poi arrivò Gödel. E verità e dimostrabilità in un sistema definito di assiomi non possono essere più la stessa cosa. Puoi scrivere tutti gli assiomi che vuoi. Esisteranno sempre affermazioni vere che non possono essere dimostrate a partire da quegli assiomi. Gödel, per dimostrare ciò, ha elaborato un ingegnoso sistema che trasforma ogni affermazione logica in un numero. È la prima base teorica per il concetto di computer programmabile. Poi Alan Turing e von Neumann diedero il contributo decisivo per la realizzazione fisica dei primi giganteschi calcolatori elettronici. Presto però i matematici hanno perso ogni interesse per i computer. La matematica, a differenza di quanto si pensi, non ha molto a che fare con calcoli complessi. L'introduzione del computer invece ha avuto una notevole influenza sui fisici, sui chimici. Loro sì che devono fare calcoli complessi. Tutto cambiò però quando arrivò Stephen Cook. Nato a Buffalo nel 1939, quando aveva 10 anni, la sua famiglia si trasferì in una campagna vicino a Clarence. Questo trasferimento influenzò molto gli interessi di Cook. Clarence è la città di Wilson Gritbach, l'inventore del pacemaker. Cook si mise in testa di diventare un ingegnere elettrico, andò all'università e si iscrisse proprio al corso di ingegneria elettrica. Il destino, però, volle che durante il primo anno frequentò un corso di programmazione. Ne rimase stasiato. Insieme ad un amico, addirittura scrissero un programma per verificare la congettura di Golba. Quella folgorazione gli fece abbandonare l'ingegneria. Scoprì che la matematica era molto più affascinante. Così, dopo la laurea, nel 1961, Cook andò ad Harvard per conseguire un dottorato. Dopo il dottorato in matematica ed aver ottenuto un posto all'Università di Toronto, pubblica The Complexity of Theorem Improving Procedures. In questo articolo, Cook introduce il concetto di completezza NP. Ma cosa sarebbe questa NP-completezza? Partite per le vacanze in auto. Volete fare un bel tour dell'Italia settentrionale. Volete visitare Torino, Venezia e Trieste? Partite da Milano. Come organizzare le tappe in modo da consumare meno benzina possibile, visto quello che costa? Prendete una tabella, mettete le varie distanze fra le città e fate la somma di tutte le combinazioni possibili. Sceglierete quella che dà il risultato più piccolo. E se invece volessimo visitare 10 città? Eh, in quel caso meglio fare un bel programmino al PC. Se non volete passare i vostri weekend a fare i calcoli anziché partire per il tour. Con 3 città abbiamo 6 combinazioni possibili, ma ora con 10 abbiamo ben 3.628.800 combinazioni. Questo piccolo problemino diventa subito molto difficile da gestire a mano. Meno male che abbiamo i computer. E se aggiungessi un'altra tappa? Con 11 città da visitare saliamo a quasi 40 milioni di combinazioni. E 25 città? Con 25 città otteniamo un numero che non saprei nemmeno pronunciare e persino un computer non saprebbe gestirlo. Siamo partiti da semplici calcoli a mano, 6 sole combinazioni ed ora abbiamo un numero di combinazioni impossibili da gestire persino per un potente super computer. Questo è il problema del commesso viaggiatore. Le varie combinazioni da analizzare crescono sempre più velocemente. Esplodono. Questi sono i problemi chiamati NP. Tutti quei problemi che non possono essere risolti in un tempo umanamente accettabile. Nell'episodio di Halloween del 1995 The E. Simpson, Homer trova un portale per la misteriosa terza dimensione dietro una libreria, in una superficie scura incisa da griglie verdi e disseminata di forme geometriche, sopra le quali ci sono strane equazioni. E una di queste equazioni è l'affermazione apparentemente semplice che P è uguale ad NP. Un'ipotesi di soluzione a questo problema del millennio. Ciò che rende i problemi NP difficili da risolvere è il fatto che devono eseguire calcoli semplici per un numero spaventosamente elevato di casi. Ma un problema NP, se visto dalla giusta prospettiva, può essere trasformato un problema di tipo P, cioè in un problema umanamente gestibile? Oppure esistono problemi NP che non potranno mai diventare problemi di tipo P? Molti problemi nell'industria e nel management sono di tipo NP. Sapere che in un modo o nell'altro possono essere ricondotti a problemi di tipo P significa scatenare uno sforzo imponente per trovare procedure efficienti in grado di risolverli. Nel suo articolo del 1971 Cook alzò la posta in gioco. Cook dimostrò l'esistenza di un particolare problema NP con una curiosa proprietà. Se questo particolare problema potesse essere risolto con una procedura in tempo polinomiale, cioè se questo problema diventasse un problema di tipo P, allora si potrebbe fare altrettanto con qualsiasi altro problema NP. Cioè Cook ha dimostrato che qualsiasi problema di tipo NP può essere ricondotto a questo particolare problema. Così basterebbe dimostrare che solo questo particolare problema NP può diventare un problema di tipo P, per provare che tutti i problemi di tipo NP possono essere ricondotti a problemi di tipo P. Questo è il concetto di NP-completezza, cioè un problema è NP-completezza e la scoperta di una procedura in tempo polinomiale in grado di risolverlo implica che qualsiasi problema NP può essere risolto mediante una procedura in tempo polinomiale. Dopo il lavoro di Cook si è scoperto che la maggior parte dei problemi NP più importanti è NP-completa. La sicurezza di tutte le transazioni che avvengono su internet dipende da variazioni di un algoritmo di tipo NP. Se si riuscisse a dimostrare che NP uguale P, tutta la sicurezza informatica mondiale sarebbe istantaneamente a rischio. Risolvere il problema P rispetto a NP non sarebbe solo un risultato matematico. Potrebbe portare a scoperte rivoluzionarie nel modo in cui risolviamo problemi complessi nella logistica, consentendo soluzioni efficienti a compiti come la pianificazione dei voli, l'istradamento delle consegne e persino l'organizzazione del modo in cui calcoliamo a livello fondamentale. Ed è proprio grazie ad un super computer che è nata la congettura di Birk e Swinerton-Dyer. La congettura di Birk e Swinerton-Dyer si occupa di alcuni tipi di equazioni, quelle che definiscono curve ellittiche sui numeri razionali. Le curve ellittiche si chiamano male. Innanzitutto non sono delle ellissi e non sono nemmeno delle curve, sono delle equazioni y al quadrato uguale x al cubo più ax al quadrato più bx più c. Chi studia queste equazioni vuole fare quello che si fa con qualsiasi equazione, risolverle. Ad esempio, y al quadrato uguale x al cubo meno 3 ha una sola soluzione, x uguale 3 e y uguale 5. Quindi la cosa da sapere di fronte ad un'equazione ellittica è? Ha soluzioni? E se ce le ha, quante sono? Come abbiamo visto prima con y al quadrato uguale x al cubo meno 2. La soluzione c'è ed è unica. E per le altre equazioni di questa forma? Non è che ci possiamo omettere a trovarle tutte. Sono infinite, non basterebbe l'intera nostra vita. E quindi come facciamo? Esiste un trucchetto. Il calcolatore ad orologio? L'inventore è Gauss. Il calcolatore ad orologio funziona proprio come un orologio. Se guardiamo un orologio e vediamo la lancetta delle ore sul 9, fra 5 ore mica sarà sul numero 14, la lancetta sarà sul numero 2. Nell'orologio dopo il numero 12 si ricomincia. In un orologio 9 più 5 non fa 14, fa 2. O meglio, 14 e 2 indicano la stessa posizione, così come 1 e 13 oppure 8 e 20. Questo è il calcolatore ad orologio di Gauss. Gauss estese questa idea dell'orologio a quadranti con qualsiasi cifre. Non per forza devono essere 12. Possono essere quelle che vogliamo. Con questo metodo è possibile contare le soluzioni alle nostre equazioni ellittiche. È sufficiente contare le soluzioni di un'equazione usando un orologio. Meglio se ha un numero primo di ore, ad esempio 13. In questo modo infiniti numeri sono confinati ad uno spazio finito. Birk e Swinerton-Dyer hanno fatto la seguente ipotesi. Se esistono molte soluzioni alle equazioni ellittiche per molti numeri primi scelti sul nostro orologio, allora l'equazione ha infinite soluzioni. A questo punto la questione cruciale diventa. E come facciamo a scoprire se all'interno dei nostri orologi esistono molte soluzioni per molti numeri primi? Birk e Swinerton-Dyer hanno calcolato anziché il numero di queste soluzioni all'interno degli orologi fatti con numero primi, la loro densità. Se sciogliamo della farina nel latte possiamo capire quanta ne abbiamo messa stimando la densità raggiunta dal latte. A volte si fa così per le ricette a occhio senza usare la bilancia. Smettiamo di aggiungere farina quando il nostro impasto è sufficientemente denso. E così hanno fatto Birk e Swinerton-Dyer. Anziché pesare le loro soluzioni, hanno calcolato la loro densità per un numero primo. Secondo loro è possibile stimare se una data equazione ellittica ha infinite soluzioni semplicemente guardando questa densità. Birk e Swinerton-Dyer si sono convinti di ciò? Facendo esperimenti. Pensate, una delle ipotesi più astratte della matematica moderna è stata formulata facendo esperimenti. Birk e Swinerton-Dyer usarono uno dei computer più potenti degli anni 60, l'ESDAC di Cambridge. Birk e Swinerton-Dyer sono stati i pionieri di un'area completamente nuova della matematica. A quell'epoca si riteneva un settore apparentemente privo di interesse della matematica. Oggi questo settore è importante per l'industria della sicurezza informatica ed è terribilmente di moda. Ecco che cosa sono i matematici. Sono poeti delle equazioni e artisti dell'astrazione. Ogni teorema è una nota nella sinfonia dell'intelletto. Solo nella matematica la creatività e la logica danzano insieme in una coreografia perfetta. Ma quant'è figa la matematica!